A tavola! Evviva! Liberare la città dai mostri mi ha messo fame. Prima, un brindisi. Alla famiglia. Alla famiglia! I brindisi che preferisco, belli e corti, mangiamo? Oh, ancora voi. Bene. Questa è Terra 2. SISCO Che è successo? Cosa hai visto? Come sarebbe cosa hai visto? SISCO ha delle visioni. Non capisco. Cosa, SISCO? Terra 2, spaccata, divisa a metà da un polo all'altro. Ditemi che non ho visto il futuro, vi prego. Ditemi che non ho visto la fine del mondo. La nostra storia continua, Flash. Harry! Oh mio Dio! Papà! 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 Ti farà diventare tale e quale a me! Tua madre e io ti abbiamo amato! Jay! Oh no! No!